... del decreto legge 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale proclamato elettro sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. A certe il candidato signor Mario De Onorio ha riportato, tra tutti i candidati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti, cioè 1639 voti vali. Quindi Presidente, alle ore 11.15 del giorno 17 maggio 2011, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Girifalco il signor Mario De Onorio. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 41,1 del decreto legge 18 agosto 2000, numero 267. Ora proggiuniamo alla proclamazione dei consiglieri, maggioranza e minoranza. Proclamazione degli eletto alla carica di consigliere comunale. In conformità ai risultati accertati, il Presidente della Donanza, alle ore 11.20 del giorno 16 agosto 2011, tenendo presenti il numero dei segni segnati a ciascuna lista. Considerato che il primo segno aspettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima, ultimo periodo del decreto legislativo di 18 agosto 2007, in basso alle graditorie dei candidati alla carica di consigliere comunale. Proclame eletti del comune di Girifalco, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a sensi dell'articolo 41,1 del decreto legislativo del 2000, per la lista numero 2, a venti di contrassegno, impegno del Girifalco, collegata al candidato con la maggio letto sindaco, alla quale spettano 16 numero, i signori. Teresa Signorelli, Francesco Saccomi, Rosanna Rizzelli, Domenico De Filippo, Vincenzo Sestito, Ides Gagliotti, Domenico Giampano, Roberto Iotti. Per la lista numero 1, a venti di contrassegno del Girifalco, alla quale spettano il numero tre segni, il signor Maurizio Siniscalco. Buon risultato a letto, nonché i signori Giovanni Stranieri, il decreto Leonardo Chiera. Per la lista numero 3, a venti di contrassegno rinascita del Girifalco, alla quale spettano segni, il numero 1, il signor Roberto Iotti. Il signor Patanica del Sindaco non risultato a letto.